Seconda parte di RTA Sport, andiamo subito con il presentare i nostri ospiti Giuseppe Mononchio, General Manager dell'AIB Fogliano Buonasera e Martina Rosati dell'ABF Moon Falcone Buonasera a tutti Siamo subito nell'AIB Fogliano, siete tornati alla vittoria battendo il Bolzano un successo importante che oltre ai due punti fa sicuramente morale Per noi era uno scontro salvezza, dovevamo assolutamente vincere anche perché le ultime prestazioni non sono state né nel risultato né nel gioco all'altezza di quello che possiamo esprimere La partita si è visto subito dall'inizio che le nostre ragazze erano un po' tese però poi anche con un'impostazione di gioco più ragionata, più distribuita in tutti i ruoli siamo riusciti a portare a casa questa importante disputa Diciamo vista dal parterre, come tutte le partite di gara che devo vedere io è stato incoraggiante il momento più difficile perché all'inizio del terzo quarto che avevamo terminato la metà gara, 5 punti avanti Bolzano ha pareggiato immediatamente con un 5 a 0 30 pari però abbiamo reagito immediatamente proprio nel giro di pochi secondi il primo canestro, poi abbiamo fatto un parziale di 10 a 0 e lì si è capito almeno io ho capito che avevamo veramente grandi possibilità di portare a casa il risultato Dopo 14 giornate di campionato che idea ti sei fatto sulla squadra e più in generale su questa Serie B? Allora sulla nostra squadra l'idea è che abbiamo buttato al vento più di una partita che ci avrebbe permesso e ci permetterebbe di essere a una situazione classifica più tranquilla e noi in questo continuo equilibrio fra la zona retrocessione cioè play out più esattamente e la zona salvezza quando giochiamo di squadra quando giochiamo assieme possiamo dar fastidio anche a squadre più quotate e vincere partite che sono alla nostra portata quando ognuna delle nostre giocatrici pensa di risolvere la partita da sole ci disuniamo e ci facciamo veramente del male perdendo partite che si possono portare a casa o prendere dei parziali incredibili diciamo è un problema di concentrazione su tutti i 40 minuti per quanto riguarda invece l'aspetto generale del campionato ormai per me è definito è definito diciamo al 90% nelle parti alte perché quelle 4-5 squadre ormai si giocheranno i primi 4 posti c'è un bel gruppo di squadre che sicuramente raggiungeranno la salvezza poi invece ce ne sono altre fra cui noi che dovremmo lottare fino all'ultimo per raggiungere questa salvezza evitare in primis i due posti che fanno retrocedere immediatamente ma anche i quattro posti che ti fanno poi disputare i play out Passiamo quindi a Martina Rosati dell'ABF Monfalcone per voi una vittoria in casa mai in discussione 5 giocatrici andate all'effetto in doppia cifra raccontaci questa vittoria contro Riva del Garda Sì allora per noi questa partita era molto importante perché abbiamo subito a Montecchio la prima sconfitta dopo 8 gare e volevamo dimostrare che la gara di Montecchio è stata solo un passo falso nella corsa al campionato quindi siamo partite subito molto concentrate andando avanti di 10 lunghezze dopo pochi minuti direi che la partita è sempre stata dalla nostra parte siamo stati in grado di limitare le avversarie ai nostri ritmi dopodiché nel corso della partita il vantaggio è andato via via aumentando e diciamo siamo riusciti a imporre i nostri ritmi ad aggirare molto bene la loro zone press che era comunque una difesa molto organizzata e appunto aggirandola siamo riusciti anche a fare molti canestri in contropiede Attualmente siete a quota 22 punti al secondo posto in classifica dove credi possa arrivare questa ABF? Beh allora mettendo in conto che il nostro obiettivo iniziale era la salvezza e non possiamo che essere soddisfatte di questo risultato a metà campionato e penso che nessuno in casa ABF si aspettasse il secondo posto a pari merito a metà campionato quindi senz'altro possiamo solo dare un giudizio positivo della prima parte del campionato e cerchiamo di continuare così anche per la seconda ora direi che l'obiettivo salvezza è quasi raggiunto possiamo magari fare un pass in più e pensare un po' più in grande Ecco dopo 14 giornate di campionato qual è la squadra che ti ha impressionato in positivo e quella in negativo invece? Ma la squadra che mi ha impressionato in positivo senz'altro è stata Udine che si è dimostrata veramente fuori campionato contro di noi squadre che mi hanno impressionato negativamente sinceramente non le ho ancora trovate perché la Serie B di quest'anno si è dimostrato un campionato molto competitivo in cui ogni squadra ha dimostrato di potersi giocare la salvezza e la vittoria in tutte le partite Passiamo quindi a Giuseppe Monocchio Facciamo una panoramica generale del settore giovanile di Fogliano come sta andando e quali sono i risultati? Allora il nostro settore giovanile noi siamo una società che abbiamo sia il settore maschile che quello femminile in ambi due copriamo tutte le categorie Nel femminile partendo dal basso la squadra Under 13 che è praticamente un gruppo formato da come al solito da giocatrici che provengono da vari centri mini basket con le società che noi abbiamo collaborazione si sta ammagamando molto bene e diciamo al di fuori dei puri risultati di classifica sta veramente migliorando a vista d'occhio nell'organizzazione di gioco ma anche nella crescita individuale e tecnica le due squadre Under 16 la squadra Under 16 formata dalle 2001 anche questa va abbastanza bene sia a livello risultato ma anche come crescita individuale torno a ripetermi su questa crescita individuale perché a livello tecnico i nostri allenatori ma anche nel maschile e questo non solo nel femminile non hanno nessuna pressione a livello risultato hanno invece una grande pressione a livello di miglioramento dei singoli giocatori o giocatrici a seconda delle potenzialità che ognuno ha per quanto riguarda come dicevo l'Under 16 2001 stanno viaggiando abbastanza bene mentre l'Under 16 2000 formate da un grosso gruppo 2000 un gruppo veramente che dalle Under 13 come gruppo sta continuando a giocare e questo come gioco esprime un bel gioco ha delle grosse difficoltà a livello realizzativo perciò raccoglie a livello di vittorie meno di quanto potrebbe Under 18 l'Under 18 è una squadra che incontra già altre compagini di un certo livello è composta da giocatrici che provengono in parte anche dalla società di Monfalcone dalla BF e qui incontra diciamo alcune difficoltà a livello realizzativo Under 20 beh l'Under 20 la nostra Under 20 vuole ripetere come minimo quanto ha fatto l'altro anno cioè almeno arrivare all'interzona e perciò diciamo che qui la pressione è anche a livello risultati se passiamo nel campo maschile maschile abbiamo diciamo oltre all'input che dicevo prima di un miglioramento tecnico individuale l'organizzazione dei fondamentali beh i risultati ci sono stiamo viaggiando nelle varie categorie non dico in tutte ma nelle zone alte di classifica logicamente abbiamo gli Under 18 gli Under 15 e gli Under 14 che disputano la categoria Elite ci sono degli elementi molto interessanti sia negli Under 14 negli Under 15 negli Under 13 anche stiamo disputando un inizio del campionato molto buono ma come dico stiamo sviluppando e guardando molto di più alla crescita individuale dei vari dei vari atleti Martina Rosati prossimo turno andate a giocare ad Abano sì sarà una partita molto impegnativa come sempre si parte sempre 0 a 0 tuttavia le nostre aspettative sono di vittoria poiché vogliamo appunto chiudere l'anno in felicità e al secondo posto restando lì aggrappate noi siamo giunti a conclusione di questa seconda parte di RTA Sport ringraziamo Martina Rosati dell'ABF Monfalcone grazie a voi buonasera a tutti e Giuseppe Monorchio general manager dell'AIB Fogliano buonasera vi do l'appuntamento alla settimana prossima buon proseguimento con i programmi della rete